Incontri sui temi della cultura, perché io sono assessore alla cultura, all'università e alla ricerca. Allora, i temi che abbiamo focalizzato maggiormente questa mattina, che sono quelli che erano emersi dal primo incontro che abbiamo fatto con tutti gli assessori dei comuni dell'Elba e questo l'abbiamo fatto all'Elba Book Festival al luglio. I temi appunto su cui concentrarci in questo incontro erano quelli delle biblioteche e quindi dei musei. Allora, sui temi delle biblioteche abbiamo anche fatto venire la coordinatrice della rete bibliotecaria di Liborno che è quella che poi ha sotto di sé anche le biblioteche dell'Isola d'Elba. Noi riferiamo come regione, ci stiamo lavorando da tanto, che la rete, l'idea della rete sia oggi un elemento di carenza, sia di risorse, sia anche di persone, di capitale umano che lavora su queste tematiche sia l'unica modalità che può portare dei risultati, cioè lavorare insieme, collaborare, informarsi, utilizzare strumenti e anche competenze condivide. È chiaro che il tema, per esempio, delle biblioteche è un tema che è importantissimo per luoghi come l'Isola d'Elba e tutte le sue località perché la biblioteca, come è emersa chiaramente anche stamani, negli anni ha cambiato il suo ruolo, cioè è diventata presidio, sì di cultura, ma anche presidio di socialità, di socializzazione e il fatto che anche in una piccola località sia aperta una biblioteca e che possa essere un luogo in cui i ragazzi vanno e possono partecipare a iniziative, possono stare circondati dal libro e quindi questo può suscitare la loro curiosità, è davvero importantissimo. È chiaro che anche per un'amministrazione locale è molto difficile tenere aperte tutte le biblioteche, tutti i luoghi della cultura perché appunto sappiamo bene anche qui che le risorse sono poche così come molto poco è il capitale umano. Allora, se però ci si mette in mente, se si cerca di suddividerci anche le funzioni e quindi stamattina per esempio è emerso il tema della catalogazione che va avanti ma ci voglia una persona esperta, allora se una biblioteca si prende il compito di informarsi anche sulla catalogazione, un'altra su altri temi oppure una sola fa le gare per tutti perché anche lì gli uffici tecnici che possono fare anche le gare e gli acquisti sono... Questo è, diciamo, forse l'unico... Una rete all'interno.